il tuo obiettivo è quello di dimagrire e tonificare ciao io sono alessandro sono un personal trainer e lavoro nel mondo del fitness da dieci anni oggi ti voglio far vedere questo circuito total body che ho preparato apposta per raggiungere questi obiettivi quindi vai a prendere un tappetino una bottiglia d'acqua e tanta forza di volontà let's go il circuito funzionale che andiamo a fare oggi è composto da 6 esercizi andiamo a lavorare un minuto di lavoro 20 secondi di recupero gli esercizi che andiamo a fare sono crunch con sit up 30 secondi crunch e 30 secondi sit up poi andiamo a fare affondi normali classici inchworm bar piece push up e squat squat saltati per chi riesce a farli se non fate i squat normali cominciamo il nostro circuito con gli addominali partiamo con 30 secondi di crunch e 30 secondi di sit up pronti 3 2 1 let's go e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora 20 secondi di recupero e passiamo al primo esercizio per le gambe. Cominciamo con un minuto di affondi. Let's go! 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 20 secondi di recupero e adesso passiamo a fare un minuto di inchworm. Ok? 4... 3... 2... 1... Let's go! 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 20 secondi di recupero e adesso si comincia con i Bartis Let's go Let's go Let's go Let's go 20 secondi di recupero e adesso andiamo a fare dei push up a terra, dei piegamenti se non avete abbastanza forza li potete fare con le ginocchia poggiate per terra 3, 2, 1, let's go 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 20 secondi di recupero, adesso andiamo a fare uno squat jump, se non riusciamo a farlo andiamo ad eseguire uno squat normale 5, 4, 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 5, 2, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go 6, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go 5, 1, let's go